... tra i capelli da bagno, la giochetta svolta e le tracce, un nuovo libro, probabilmente i suoi ti hanno detto, quando sarai al progettino, vai alla messa. Lui è venuto, ma non si è sentita di entrare in pratica, tra le gente che è vestita. Ha provato in un'area della stagestia, come tanti uomini e ragazzi di campagna possono fare. Intanto, Don Bosco ti rivolge la prima valuta. Miocco amico, come ti chiami? Dio, di che paesi sono già? Che messiere qua, su una di loro, che vivo il tuo mamma? No, no. Il tuo mamma? No, tanto di lui. Quali anni hai? Tres, tu sei. Sai grecia e sceme? No. Sai mandare? No. Sai cristiane? No. Guarda, come io ci mi sa dire, era sempre un posto pieno. Cominciamo ad essere luce, intanto Don Bosco continuò a intervallo. Hai fatto una foto con me, non ancora. Mi senti a confessare? Sì. Quando ero brutto, che vai al catetismo, che tolnovo, che avresti un po' di prendere per le citture. E se mi facessi un catetismo a parte, ci deve essere? In modo che io vedi, con te, non mi chiedo appassionato. Non ne ho riparati, nessuno sull'operativo. O la cittura mi ha detto, quando vuoi, riconosciaci, anche subito, dato l'opera. Don Bosco, mentre vanno i giorni per il mio, si ginocchia e resta la previa dell'aventura. E poi, in questo momento, ci alziamo a chiedere di noi, ci auguro da tutti noi, e vi auguro la parola della nostra parte e della mia vita. Sì. 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 Sì.